Musica Prometteva raccomandazioni per superare i concorsi arrestato nel casertano per millantato credito un dipendente della difesa. Coltivazione e detenzione di droga ai fini di spaccio arrestati a Calvi, due giovani. Pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino in Tilt, accessi record dalle altre province. A Benevento un gruppo di esorcisti nel decreto di nomina del Vescovo a Crocca, anche un vademecum su come agire. Opere rubate restituite al Museo Filangeri di Napoli, riconsegna ad opera di carabinieri tutela patrimonio culturale. Nuovo appuntamento con l'informazione di Mediatv per ritrovati. Prometteva raccomandazioni per superare i concorsi. Finisce agli arresti domiciliari per millantato credito un dipendente del Ministero della Difesa. Il servizio dal casertano. Vediamo. Un dipendente civile del Ministero della Difesa è finito agli arresti domiciliari su ordine del GIP del Tribunale di Santa Maria Capoavetere per millantato credito in quanto, secondo l'accusa, avrebbe convinto numerosi ragazzi a consegnargli danaro o altri regali per superare il concorso nella Polizia di Stato e nella Polizia Penitenziaria, millantando amicizie potenti che in realtà non aveva in grado di condizionare l'esito della prova. La Guardia di Finanza di Caserta, che ha eseguito l'arresto di Giuseppe Zarrillo, coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capoavetere e Procuratore Maria Antonietta Troncone, ha aggiunto Antonio D'Amato, ha accertato che Zarrillo era diventato un vero e proprio punto di riferimento per tanti ragazzi, specie per i giovani militari dell'esercito, in ferma a breve, che aspiravano a superare i concorsi per entrare nelle forze di polizia. Nel mirino degli inquirenti sono finiti i concorsi banditi nel 2017 dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Penitenziaria per il reclutamento, rispettivamente, di 1.148 e 540 lievi agenti. In particolare Zarrillo, emerso millantando conoscenze tra i pubblici ufficiali nominati nelle commissioni concorsuali, si sarebbe fatto promettere da genitori e parenti degli aspiranti agenti la consegna di somme variabili da 20 a 25 mila euro, di cui 8 mila da ricevere anticipatamente al fine di far superare ai ragazzi il test di ammissione e le visite mediche. Zarrillo garantiva il piano superamento delle prove, cosa che puntualmente non avveniva. Di certo, hanno accertato gli inquirenti, Zarrillo aveva creato attorno a sé un giro di persone che di lui si fidavano e a cui si rivolgevano convinti del buon esito della sua mediazione. Un forte boato e poi una scossa che ha fatto tremare la terra a Casamicciola sull'isola di Ischia alle 10.02. La scossa è stata registrata dagli strumenti dell'osservatorio Vesuviano con una magnitudo 2.5 ad una profondità di 2 chilometri con epicentro a Casamicciola Alta come confermato dalla direttrice Francesca Bianco. A quanto si è appreso è stata avvertita in numerose località dell'isola mentre in altre nessun evento è stato percepito dalla popolazione. Quasi un anno fa a Casamicciola una scossa di 4 gradi provocò due morti e 2.600 sfollati. Un video su Facebook per tranquillizzare gli amici. Ragazzi tutto a posto, sono un po' acciaccato ma tutto bene. Antonio Verdicchio, camionista di Maddaloni, 45 anni, il cui mezzo lunedì è stato tamponato dall'autocisterna che ha preso fuoco. Ha scelto il social network per salutare tutti quelli che si sono preoccupati per lui. Ha detto di aver fatto un video su Facebook perché nell'impatto il suo telefono ha preso fuoco come pure i documenti. È già stato dimesso dall'ospedale e si trova a casa con alcune medicazioni ed escoriazioni ma sorridente e in buona salute. Grazie a tutti, ha detto scherzando, il lupo è ferito ma non è morto. Sottraeva denaro al comune di Crispano. Una sanita di 84 anni è stato denunciato per rappeculato. Si tratta del rappresentante legale di una società concessionaria incaricata dall'enti a riscuotere tributi. I dettagli. Depositi bancari, titoli finanziari, beni mobili ed immobili per un valore di oltre un milione di euro sono stati sequestrati in maniera preventiva dalla Guardia di Finanza di Benevento su decreto finalizzato alla confisca e emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale del Capologo Sanita su richiesta dei magistrati della Procura. I beni sequestrati erano nella disponibilità del legale rappresentante di una società operante nel servizio di riscossione dei ruoli idrici e della gestione tesoreria per conto del comune di Crispano in provincia di Napoli con sede nel Zagno. Il provvedimento è scaturito in ordine alle condotte appropriative poste in essere da rappresentante legale della società, un 84enne originario di Santa Cata dei Goti. Gli accertamenti finanziari hanno infatti consentito di chiarire che l'uomo stati culano in qualità di legale rappresentante della società concessionaria incaricata del comune di Crispano alla riscossione dei tributi comunali ha sottratto nel tempo ingenti somme di denaro derivanti dal pagamento per le utenze idriche incassate dal terzo trimestre del 2013 al terzo trimestre del 2014. Secondo gli inquirenti inoltre l'anziano non ha reso disponibile somme riscosse nel conto della tesoreria comunale. Sono stato pertanto sottoposte a sequestro quote societarie riconducibili all'indagato per 400 mila euro circa e bloccati 50 rapporti bancari presso diversi istituti di credito. Sono ancora in corso operazioni di ricerca per individuare altre disponibilità bancarie o finanziarie che saranno sequestrate sino alla concorrenza del profitto del reato commesso. Un detenuto si è suicidato nel carcere di Poggio Reale a Napoli impiccandosi alle inferriate con un lenzuolo. Si tratta di un detenuto trentenne nel padiglione Napoli approfittando dell'assenza di quattro compagni di stanza che erano nel cortile Passaggi si è suicidato. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso dell'uomo originario di Maddaloni appellante per rapina è tentato omicidio con fine pena a giugno 2027, è ristretto nel carcere partenopeo da giugno scorso e proveniente dalla casa circondariale di Avellino. È il terzo suicidio in breve tempo. Sono stati arrestati dopo un servizio di appostamento due giovani di San Nazaro e Calvi dovranno rispondere di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Avevano allestito in un fondo agricolo abbandonato nel comune di Calvi, località fabbricata, una piantagione di circa una ventina di piante di cannabis di altezza compresa tra un metro e cinquanta e due metri. Dovranno rispondere di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti i due giovani arrestati dai carabinieri della stazione di San Giorgio del Sagno, un diciottenne residente a Calvi ed un ventenne di San Nazaro. In seguito ad un'ulteriore perquisizione personale e domiciliare, sono stati scoperti 6 grammi di hashish ed un grinder utilizzato per la sminuzzatura delle infiorescenze di marijuana. Il materiale era in possesso del diciottenne. A casa del ventenne, invece, i militari hanno trovato, occultati in un comodino della camera da letto, 32 grammi di hashish. Due giovani tratti in arresto, dopo l'espletamento delle formalità di rito, sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni in regime di detenzione domiciliare. Controlli antiprostituzione a Rione Ferrovia di Benevento, multa per cliente e lucciola. Controlli serrati contro la prostituzione. Nella serata di martedì a Benevento, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno elevato una sanzione amministrativa nei confronti di un uomo di 51 anni sannita. In ottemperanza all'ordinanza del sindaco Clemente Mastella relativa al contrasto dell'attività di prostituzione. L'attenzione degli agenti è ricaduta su un uomo intercettato in via compagna nei presi di Rione Ferrovia, intento a far salire a bordo della propria auto una prostituta nigeriana. Gli agenti hanno proceduto al controllo e all'identificazione del cliente, della cittadina straniera. Espletati tutti gli accertamenti del caso, alla luce di quanto rilevato, nei confronti dell'uomo e della cittadina nigeriana, è stata elevata una sanzione amministrativa in violazione dell'ordinanza sindacale del 15 settembre 2017 per esercizio della prostituzione su strada. L'intensificazione dei controlli da parte della questura di Benevento, diretta da Giuseppe Bellassai, proseguirà nelle prossime settimane. Ancora senza stipendio, i 67 dipendenti in servizio al cantiere del Policlinico di Caserta che avanzano quasi sei mensili tarretrate. Si tratta di una infrastruttura da 150 milioni di euro, tra le più importanti della campagna, che il governatore della Regione, Vincenzo De Luca, aveva rilanciato nel marzo 2017, facendo ripartire i lavori dopo oltre due anni e mezzo di rallentamenti. Il cantiere è ormai fermo da mesi, visto che sono andati via i subappaltatori e i fornitori. Hanno chiuso i rubinetti. Re furtiva restituita a Napoli, al bellissimo museo voluto da Gaetano Filangeri, in via Duomo dopo le indagini di Carabinieri e procura le immagini. Armi storiche, monete, libri antichi, medaglie commemorative sono i beni riconsegnati oggi al Museo Filangeri dal nucleo Carabinieri Tutela, patrimonio culturale di Napoli. Sono opere rubate tra il 1990 e il 2000, recuperate a seguito di attività investigative condotte negli anni scorsi. Il recupero arriva da due attività distinte e separate, una nel 2013, una seconda attività invece nel 2017, molto più tardi. 16 armi antiche, 25 monete preziose, 114 medaglie rare, due volumi del Settecento e tanto altro, tutto restituito dopo anni di indagini, in merito all'eventualità che possano essere furti su commissione, Brasile ha evidenziato che la nostra esperienza ci fa pensare che sì, c'è una connessione, ma se non c'è una commissione, c'è in ogni caso un interesse per certi beni. I ladri non sono ladri occasionali, ma sono ladri che hanno comunque un mercato di riferimento, quindi dei ricettatori, che chiamiamo noi in gergo ricettatori di primo livello, che tengono le opere per pochissimo tempo, per poi essere rivenduti a questi appassionati, questi acquirenti finali, che per noi sempre ricettatori sono, ma che, diciamo, sono appassionati di queste tipologie di beni d'arte. Pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino in tilt, accessi record provenienti anche dalle altre province. Vediamo. Un pronto soccorso in emergenza è quello dell'ospedale Moscati di Avellino, non socomio che prova a gestire al meglio le richieste che arrivano anche dalle strutture di Benevento e dal Napoletano. Carenza di personale, prima di tutto, nello scorso weekend gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15% circa anche per l'emergenza che si è registrata all'ospedale Landolfi di Solofra, considerata la momentanea chiusura della diagnostica per immagini e al rummo di Benevento per il guasto di un angiografo. In aumento le richieste anche dal Fatebene Fratelli di Benevento per la sospensione dell'attività cardiologica. Un via vai continuo di pazienti difficile da gestire. Il Moscati, con una lettera inviata all'ASL e al prefetto di Avellino, ha già posto la questione rimarcando la necessità che le strutture di provenienza gestiscano comunque l'adeggenza del paziente una volta che la sua situazione sia stata stabilizzata presso l'ospedale di Avellino. L'unità di crisi diretta la numero 1 dell'azienda sanitaria Maria Concetta Conte sarà operativa infatti fino alla fine dell'estate per scongiurare situazioni di emergenza e garantire la necessaria assistenza a tutti i pazienti. Dal 15 giugno, data di inizio della campagna estiva antincendi boschivi, ad oggi sono state 123 le richieste trasmesse dalle regioni per chiedere l'intervento dei mezzi della flotta aerea dello Stato. lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile. Solo 123 richieste in poco meno di due mesi, il 90% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A metà della campagna estiva antincendi boschivi che terminerà il 30 settembre, l'Italia fa segnare un record stavolta positivo, complice anche a una stagione invernale piuttosto piovosa. Dai dati del Dipartimento della Protezione Civile emerge infatti che dal 15 giugno ad oggi le regioni hanno richiesto al Centro Operativo Aereo Unificato l'intervento aereo della flotta dello Stato solo in 123 occasioni. La scorsa estate, che è stata particolarmente difficile dal punto di vista degli incendi, erano state 1.205, appunto circa il 90% in più e nel 2016 furono 467. Complessivamente nel corso delle operazioni di supporto aereo alle squadre di terra e ai velivoli antincendio regionali, la flotta dello Stato ha operato per 886 ore con oltre 5.000 lanci di acqua e liquido ritardante ed estinguente. Meno della metà rispetto al 2016 quando i lanci sono stati oltre 12.000 mentre nel 2017 furono più di 32.000. La legge prevede che in caso di incendio le prime a intervenire sono le squadre di terra coordinate dalla regione. Se poi i roghi sono troppo estesi e il lavoro a terra non riesce ad arginare le fiamme, il direttore delle operazioni di spegnimento può richiedere l'intervento degli elicotteri regionali e solo in caso questi non siano a loro volta sufficienti la regione può richiedere l'intervento della flotta dello Stato. Per la stagione 2018 la flotta dello Stato può contare su un massimo impiego di 31 velivoli. Sono schierati in Italia ma sono in via prioritaria dedicati all'estero in caso di attivazione del meccanismo di protezione civile europeo. E' quello che è accaduto per gli interventi svolti nelle settimane scorse in Svezia ed in particolare in Grecia. A Benevento arriva un gruppo di esorcisti nel decreto di nomina del Vescovo Monsignor Raffelice a Crocca anche un decalogo. Sentiamo. Il Vescovo di Benevento Monsignor Raffelice a Crocca ha nominato un gruppo di sacerdoti che si dedicheranno in modo stabile al delicato ministero di esorcista con l'incarico cioè di aiutare quei fratelli che presentano fenomeni di possessione o di infestazione diabolica nel pieno rispetto della normativa canonica e liturgica. Don Gaetano Santo Giuliano Don Marco Felice Carluccio e Don Paolo Carmine Antonio Pascarella saranno quindi muniti della facoltà di proferire esorcismi sugli ossessi. L'incarico è stato ufficializzato lo scorso 4 agosto una decisione arrivata dopo un'attenta e ponderata riflessione e che scrive il pastore della Chiesa Beneventana riferendosi all'ex guida Andrea Muggione segue la peculiare attenzione prestata a questo fenomeno dal mio predecessore attraverso un approfondito studio di settore convertito poi in legge particolare con decreto del 28 novembre 2010. Da qui la pubblicazione di una sorta di decalogo da rispettare per le preghiere e il consulto con i fedeli ritenuti posseduti o semplicemente vessati. Nella celebrazione degli esorcismi pubblici e solenni si atterranno rigorosamente e scrupolosamente alle disposizioni normative diocesane sul ministero degli esorcismi e le preghiere di liberazione in comunione con il vescovo e sotto la sua personale autorità. I fedeli bisognosi di questo sacro ministero prima di essere presentati all'esorcista spiega a crocca saranno previamente seguiti dal proprio parroco a cui compete il dovere di accoglierli e di ascoltarli. Le persone che chiedono di essere liberate e guarite dal maligno e dai suoi lacci spiega ancora nel decreto sono sempre persone bisognose di aiuto a volte si tratta anche di persone povere di fede e di cultura altre volte di persone toccate dal dolore e dalla sofferenza fisica e psicologica. Nei loro confronti la chiesa ha sempre il dovere che nasce dalla carità di accoglierle ascoltarle illuminarle sostenerle e aiutarle affinché siano effettivamente liberate da ansie e paure sofferenze e schiavitù potranno far ricorso all'esorcista diocesano conclude a Crocca tutti i fedeli appartenenti alla diocesi di Benevento solo eccezionalmente fedeli provenienti da altre diocesi possono far ricorso all'esorcista diocesano previa presentazione e autorizzazione dell'ordinario di appartenenza a questa norma può derogare il vescovo di Benevento considerato caso per caso infine la raccomandazione affinché l'esercizio di questo particolare incarico avenga sempre in privato evitando perciò l'eccessiva pubblicità per la delicatezza dei casi e il rispetto delle persone è vietata la presenza e l'utilizzo di mezzi mediatici evoluzioni cromatiche questo è il titolo della mostra di Elia Severino visitabile nelle terme di Telese l'arte della Severino è una sintesi fra presente e passato in perfetta sintonia con la sua descrizione della realtà cromatismi che sfuggono le lusinghe tendenziali per dar vita ad opere ricche di sentimento emotivo che lasciano intatto il fascino di opere palpabili di emozioni nella sala Goccioloni l'interessante esposizione dove l'evento cromatico ha il sopravvento sul segno questi gli orari di apertura della mostra dalle 10 alle 12 e dalle 18 e 30 alle 23 e 30 in piena estate si pensa già al prossimo anno scolastico ed è ancora caos vaccini sentiamo perché nel caos vaccini si inserisce anche la polemica sulle classi scolastiche differenziate da una parte i bambini che sono stati vaccinati dall'altra i cosiddetti immunodepressi la proposta era stata avanzata nei giorni scorsi dal ministro della salute Giulia Grillo contro questa idea si sono schierati non solo i dirigenti scolastici che parlano di difficoltà organizzative a poche settimane dalla ripresa delle elezioni ma anche e soprattutto i medici che mettono in primo piano la salute dei bambini questa è un po' secondo me un'incoerenza perché il ministro propone di costituire un greggio localizzato ma nello stesso tempo non mettendo l'obbligatorietà dei vaccini distrugge questa concezione del greggio a livello nazionale in sanità le cose si devono fare serie e seguendo i dettami della comunità scientifica se vuoi il greggio lo devi creare a livello nazionale il greggio in una piccola classe è solo una ghettizzazione anche perché tu vai a togliere dei bambini che si trovano bene con degli amichetti che già hanno consolidato insomma una compagnia e poi li vai a mettere in un'altra classe solo perché magari nella vecchia classe c'era qualcuno non vaccinato bisogna essere coerenti e andare fino in fondo nelle cose a rincarare la dose ci ha pensato anche Giovanni D'Angelo presidente dell'ordine dei medici di Salerno che ha accusato i suoi colleghi che si sono schierati contro le vaccinazioni i medici no vax ha detto non rispettano il codice etico ed è giusto che vadano puniti il medico plaude anche all'iniziativa del governatore della regione Campania Vincenzo De Luca di incentivare le vaccinazioni seppure si dice contrario a posizioni territoriali rispetto a principi generali della sanità siamo allo sport il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Kevin Malquitt il club azzurro ha pagato il terzino destro circa 12 milioni di euro Malquitt sarà l'alternativa ai sai sulla fascia destra ed è già nel ritiro azzurro in Svizzera dove oggi ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni agli ordini di Carlo Ancellotti in carriera ha segnato 11 reti ufficiali Serie B ripresa la preparazione dei giallorossi del Benevento in vista della gara di sabato prossimo contro l'Udinese agli ordini di mister Rabbucchi maggio e compagni hanno lavorato sia sotto il profilo atletico che tecnico tattico sempre presso il centro sportivo di Paduli giovedì in programma una seduta mattutina basket serie A la Sidigas Scandone Avellino ha ufficializzato l'ingaggio di Caleb Green l'ala statunitense ha giocato nelle ultime due stagioni nella Lega Turca e nell'ultimo campionato ha collezionato ottimi numeri Green è un giocatore esperto buon tiratore anche da fuori piuttosto rapido capace di prendere bene posizione sotto canestro sia in attacco che in difesa ed era questa l'ultima notizia vi lascio in compagnia delle prisioni del tempo e con il resto la nostra promozione grazie per l'attenzione arrivederci grazie a tutti ben ritrovati a un nuovo aggiornamento previsioni per giovedì 9 agosto da iniziali condizioni di tempo asciutto a lieve instabilità sui monti in genere clima sempre piuttosto caldo ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it al nord sarà soleggiato al mattino poi si accenderà l'instabilità sulle alpi con temporali frequenti soprattutto sui settori occidentali fin verso le aree pianeggianti più soleggiato invece altrove al centro sarà una splendida giornata di sole ovunque tuttavia non si esclude la possibilità di qualche temporale sui rilievi al pomeriggio il cielo sarà sereno invece sui restanti settori bel tempo sulle regioni meridionali con ampio soleggiamento e cielo limpido o al massimo velato i venti saranno deboli e da direzioni variabili un po' su tutti i nostri bacini le temperature infine risulteranno essere sostanzialmente stazionarie e molto calde le minime saranno comprese tra 15 e 25 gradi su tutto il nostro paese per quanto riguarda invece le massime prevediamo fino a 35 gradi al centro nord e punte di 36 gradi invece al sud